lavorare l'orto è gioia e soddisfazione e benessere fisico e soprattutto sia per la mente che per il fisico salute allora guardiamo un po qua cosa c'è qui allora prima di effettuare la zappa vi faccio una cosa molto semplice abbiamo l'orteca i pali come i tutori quelli vetti che devo riutilizzare poi abbiamo il cardo erbe per la salute papaveri si queste devono sbocciare soprattutto la ma ecco qui la ma di malva ce n'è molta in abbondanza perché parte la fama ecco qui abbiamo le rapastrelle rapa selvatica cimi di rapa ecco qui e poi qui vabbè qua che c'è quest'anno ci sono molte prugne cachi quest'anno molti casi guardiamoci qui intorno e che c'è quando prugne un bel percolato d'uva ecco qui vedete questo è un albero di mela soprattutto questa meravigliosa campagne pucenze altipiano del fucile una bellissima giornata